Ciao ragazze, il nuovissimo video shopping Allora, è tardissimo perché sono le... Io sembro qua tutta ignuda E' tardissimo perché sono le otto e mezza Io devo andare a casa, però siccome vi ho promesso che vi facevo un video Ho promesso alle ragazze... Ci ho promesso Ho detto alle ragazze che facevo questo video shopping Si, inizierò a toccare i miei capelli ancora, perdonatemi E' sera, sono stanca E' tutto il giorno che sono qui in giro Tra pacchi e non pacchi E quindi sì, mi guarderò tantissimo i capelli Perché non mi posso, cioè, non mi posso, giuro, vedere Veramente Provate per credere Cioè, se volete, provate a riprendervi Poi vedrete che vedrete che anche voi vi toccherete i capelli Che a tanti dà proprio fastidio, ma non mi interessa Cioè, se vi dà fastidio mi dispiace Io non posso... Scusate, mi sono inventata una cosa Che ho riuscito qua prima Che non volevo rovinare Ok, bellissimo anellino Ok, mi è stato regalato ieri Guardate che carino questo bel fiore bianco E allora Partiamo subito con il video shopping Ho tantissime cose da farvi vedere Partirei con i nuovi arrivi E poi vi faccio vedere anche qualche 2x1 Avevo promesso alle ragazze appunto Che non si sono potute recare In negozio Lunedì e martedì passati Quindi una settimana fa Quando ho fatto lo svuoto... Ah, qua vabbè, meglio la luce Quando ho fatto lo svuoto a tutto Cioè, ho fatto il 2x1 Solo lunedì e martedì scorso Per chi ovviamente era un cliente online Non poteva ricarsi fisicamente in negozio Avevo promesso che avrei fatto anche un 2x1 Extra Ovviamente possono partecipare a questo 2x1 Anche le persone che vengono fisicamente in negozio È aperto veramente a tutte Allora, quindi è una cosa diciamo Su dei piccoli video Insomma, per riparare a questa cosa Quindi vi farò vedere un po' di nuovi arrivi E un po' di 2x1 Quando sono del 2x1 Vi dico 2x1 Così potete segnarvi poi l'eventuale coppia L'articolo che costa meno è gratis Quindi comprate una maglietta da 10€ Una maglietta da 5€ Spendete 10€ E ne avete 2 Ok, ci siamo capiti Non c'è bisogno di quello spieghi Però è sempre meglio specificare Allora, partiamo subito con questo Che avevo già fatto vedere Ah, sì, la borsa che fa questo rumore Avevo già fatto vedere alle ragazze sul gruppo Che è un bellissimo abito della Blue Joint Bellissimo Devo dire bellissimo Nel senso che è di ciniglia Ma è morbidissima E praticamente era apprezzato 52€ Questo è un articolo nuovo Il prezzo del baule della Vranica Boutique È 20,90€ È una taglia S Però comunque Come si suol dire Va benissimo anche alla M Perché è molto morbido Ne avevo già uno simile nel second hand Che vi è piaciuto tantissimo Questo l'unica cosa che ha È nuovo Ha praticamente la manica così a tulipano Bellissima E si può portare o così Fatto proprio a tunichetta Oppure con una bellissima cinturina In vita morbida O una cintura gioiello Sì è vero Fa un po' inverno Nel senso ricorda un po' l'inverno Però io anche adesso Proprio portato lui così Con sopra magari anche un gilet di pelle O comunque una ecopellicetta O qualcosa di più leggero Ce lo metto tranquillamente Io la ciniglia la sto portando ancora Quindi sì è vero Siamo in inverno Però possiamo ancora Possiamo ancora voler vedere Anche queste cose invernali Invece passando un estremiso all'altro Vi faccio vedere questa bellissima blusa Anche questa è rimasta Perché non me l'avete prenotata Perché non ve l'ho forse fatta vedere E questa è sempre della Blue Joint Anche questa è apprezzata A 63 euro È una taglia XL Il prezzo del baule Della Veronica Boutique Bellissima C'ha questa rosa Ha queste maniche così Un po' svolazzanti Un po' no Però comunque belle cortine Di modo che non si soffre il caldo Anche chi magari A qualche chilo di troppo Spesso volentieri Già io che mi sembra di avere Delle braccia giganti Tende a coprire le spalle Questa comunque ha questa sorta Di velo Che vi tiene un pochino protette Ed è bellissima Anche sulla parte qua del fondo Perché vedete È asimmetrica È meravigliosa Molto fine e raffinata È un bellissimo colore Da abbinare ad un rossetto Ton sur ton Con un bel pantalone bianco Con un pantalone blu Con un pantalone nero Con il jeans Sta benissimo E dietro anche È molto particolare Perché nella sua semplicità Ed eleganza Secondo me va bene Anche per una cerimonia Una camicetta così Basta abbinare Il giusto pantalone E viene appunto 22,50 euro Che è un prezzo Secondo me Veramente interessante Poi vi faccio vedere Dei nuovi arrivi Sempre nel rosso Oggi tutto rosso Allora Questa camicia abito Camicione Bellissima Nuova con etichetta Anche lei E viene dalla N Che non so come si dice NKD Comunque con la catena Tedesca Qualcosina di questo brand Allora Veste grande Perché XS Comunque va benissimo Anche a S Quasi a M Perché veramente Anzi Senza dirvi quasi Io ora me lo provo Perché veramente Vestono Questi brand tedeschi Queste catene tedesche Vestono veramente tantissimo Io a volte ho l'XS E me la posso anche Sognare l'XS Quindi ora Guarderemo insieme La taglia di questo Allora Aspettate Con sugli anelli Tutto quanto Comodissimo Vediamo se mi arriva Allora Sì Va bene anche a M Assolutamente Perché mi arriva Anche abbastanza morbida Quindi io qua vi consiglio S Oppure M Sì Vedete Morbidissima È un camicione Quasi abito Io lo userei come abito E ci metterei anche Magari una cinturina in vita Perché no Il prezzo Dal prezzo Vestino Che è 15 euro E 99 È 10 euro E 90 Il prezzo Da Baule Della Veronica Boutique È nuova Bellissima Questo tartan Si usa tantissimo Anche in primavera Con giacchini di pelle Amfibi Meravigliosa Vedete Ha questo tartan Con l'inserto dei fiori Quindi più femminile di così Non ce n'è Ora dovrò rimetterti Tutti i bottoncini Sono un po' maniaca Anche delle cose Mi dà fastidio Metterle senza allacciare Gli bottoncini Quando le spongo Con il loro mino Il loro mino di legno Come dico io Però non li allaccieremo tutti Se no sto qua Fino domani mattina Ehm Vabbè Allacciamone alcuni tattici Tanto poi se la prova qualcuno Allora E questa praticamente Come lunghezza Arriva appunto Al ginocchio Bella lunghettina Si può all'occorrenza Portare Cioè La si può portare Anche come camicia Con sotto un leggings Una canottiera Anche aperta Oppure mezza aperta Mezza chiusa Oppure proprio anche come abito Come consigliavo io Per fare una cosa Un pochino più Più carina Insomma Più diversa Dai soliti Vi mostro poi un abitino Che questo qua Appena appena giunto Al baulo della Veronica Boutique Questo è un abitino Taglia unica Veste fino a 44 Non di più Bellissimo Scozzese Rosso Con tutti i bottoncini Qua doppio petto Sulla gonna È un vestitino Che cade tipo tubino Però abbastanza tattico Perché è tagliato qua sotto il seno Quindi esalta bene il décolleté E arriva al ginocchio Anche lui Questo è stupendo Si può portare adesso Bellissimo Il verde Con il rosso Devo fare un outfit Assolutamente Con questo tartan rosso Perché lo amo alla follia È stupendo Che devo dirvi È un tessuto abbastanza strutturato Pronto moda Ovviamente E va bene adesso Va bene anche portato lui da solo Come se fosse un tagliorino A modi vestito E il costo di questo Bellissimo vestitino È ragazze 12,50 euro Quindi Ottimo anche il prezzo Più o meno la metà Di quello Di quello di vendita Poi ve ne faccio vedere un altro Super estivo Anche lui Bellissimi Ho amato i colori di questo abito Che è una taglia media Guardate che bello Dal sapore È un pochino etnico Taglia M appunto Costa Costa praticamente 12 euro Anche lui È un bellissimo tessuto fresco Ha dei bellissimi colori È meraviglioso E anche questo Con degli stivaletti Secondo me Spacca tantissimo Io lo porterei Proprio solo lui E degli stivaletti Semplici Semplici Poi Vi faccio vedere Una blusa Una camicetta Anche questa È super estiva Taglia S Questa costa pochissimo Viene soltanto 7,90 euro Ha leggermente Qua dove ci sono Le monetine attaccate Tipo vintage Questa Cioè vintage Penso che abbia Un bel po' di anni Di Marina M Ha semplicemente Delle piccole Vedete qua Si sta un po' staccando La monetina Per il resto È meravigliosa Ed è stupenda Anche questa Guardate la simmetria Di questa maglietta Wow Cioè la mettete su E fa questo effetto Con la coda Bellissima Con un pantalone bianco E un torpettino bianco Qua due puntini Ed è subito sistemata Non ha grossi problemi E fa tutto il rumore Delle monetine Molto molto interessante Anche questa Che è un nuovo arrivo Appunto Poi sempre nei nuovi arrivi Vi faccio vedere Questa sotto giacca Sempre della Blue Joint Questa sotto giacca È apprezzato 24 euro Ed è rosa tenue Con lo scollo a barca E tutto il pizzettino Non si vedrà una cippa Perché questi colorini qua Quest'ora Con questa luce artificiale Non rendono bene Sta al pizzetto Anche sul fondo Della manica È una taglia media M42-44 Perfetta come sotto giacca Ma anche portata così Come se fossi Cioè come porto io Questo body Diciamo Portata così Lascia tutta la parte Qua scoperta Del collo Che secondo me È molto sexy Ve lo dico sempre Io lo trovo una cosa sexy Che devo fare Cioè lo dico E è molto interessante Appunto anche Portata come sotto giacca Ma anche da sola In primavera All'interno di pantaloni Magari blu Eleganti O anche proprio come Sotto giacca Per un tagliere E il prezzo Da baule Della Veronica Boutique Ragazze Da 24 euro È 10,90 euro Quindi anche qua Siamo comunque A prezzi molto competitivi Ed interessanti Mi piace C'era qua un pantalone Anche questo è molto particolare Oggi sono cose strambe Allora Questo è un pantalone Della Pull&Bear È una taglia 40 italiana E costa 12 euro Un bellissimo pantalone rosso Per la primavera Praticamente Pari al nuovo Con tutte le cuciture bianche Un pochino stile anni 80 La vita abbastanza alta Dietro ha le tasche bianche Così a vista Ed è una sorta di Mezzo pantaculotte Ma Mezzo Cioè Non è un pantaculotte Sono quelli che vengono giù Larghi Da portare Se avete le gambe lunghe Con le sneakers Oppure se avete le gambe Meno lunghe Tipo le mie Cioè dipende dove vi arriva Arriva alla caviglia Quindi si può portare Se con i tacchi E con le sneakers Qualsiasi sia La lunghezza Alle vostre gambe È bellissimo 12 euro È anche un prezzo interessantissimo Perché è un pantalone Praticamente Pari al nuovo Cioè nel senso Tenuto davvero benissimo Poi vi faccio vedere Un abitino Questo è un abitino Taglia Non pervenuta Non si sa Vediamo se Se trovo qualche indicazione Non l'ho ancora controllata La taglia S 100% cotone Ma a me sembra un po' più grande Di una S Però Per me è una M Per me a me va Cioè è una M Questo vestito Questo è un vestito Super estivo Ora me lo devo provare Perché se no Resto col giuglio Tutta sera Poi mi chiedete Allora È 100% cotone Molto carino Scamiciatino estivo Con questi fiorellini Bellissimo da portare Con sandaletti bassi Per tutti i giorni L'importante È curarlo il make up Quando si hanno Questi abitini semplici E freschi Basta avere Un velo di rossetto rosso Adesso Ho fatto La ganza Dire che è una M Però una M Cioè magari Non mi entra neanche Vabbè No Dovrò aspettinarmi tutta Ok Cosa mi tocca fare No Avevo ragione È una M Questo ragazze Dai 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 Uh C'ha la gonna di 50 No vabbè È più bello di quello che Cioè È bellissimo indossato C'ha la gonna di 50 Vi giuro Cioè Non gli davo una lira A vederlo così Perché A vederlo così Ho detto Bah È proprio vero Che le cose Bisogna sempre provarle In diretta La meraviglia di questo abito Allora È una S Che va bene anche a M Calcolate che io Ho la quarta di reggiseno E quindi mi va perfettamente Guardate che meraviglia Va via parte Con tutti i jeans E tutto la maradam La gonna di 50 Di questo abitino Quanto cambia Indossato Cioè Ditemelo anche voi Perché se no Sembro l'unica pazza Oltre a avere delle cuciture favolose 100% cotone Super super ispirato al vintage Con un bel cappellino E un bel sandalo di paglia Che meraviglia Bellissimo ragazze E questo abitino qua Che adesso Scusate se lo vedete in questa maniera Ma Dovrei fare un outfit idoneo In 100% cotone Viene soltanto 11 euro È proprio carino E secondo me È tipo vintage Ora Proverò a togliere Dietro c'è il fiocchettino da fare Quindi No vabbè Sono innamorata È troppo bello E aspettate che dai Lo tolgo Intanto faccio pausa Perché se no Ok Vi faccio vedere comunque I trucchi del mestiere Bellissimo questo abito Davvero Non l'avrei mai detto Che vestiva così bene Sono rimasta stupita Tante volte sono io stessa Che dico a voi Provatelo Provalo Perché guarda che ho indossato Questa volta invece Sono rimasta fregata io Allora Poi Sempre dell'arella dei rossi Oggi siamo concentrati su quella Ma poi andiamo avanti Anche con le altre Non preoccupatevi Allora Vi faccio vedere Vabbè Vi rifaccio vedere Questo cappottino qua nuovo Perché Adesso lo voglio provare Visto che sui jeans È così carino Che ho detto Vabbè Ma come è possibile Che è ancora qua 19,90 euro Sono quei cappottini Leggeri Da primavera Specie cardigan Tra i cardigan e i cappotti Questo ce l'ho anch'io L'ho tenuto anch'io Per la primavera Taglia unica SM Un po' stile Barbary Con questo rosa tartan Io qua consiglio Anche una taglia S In realtà Per un'ottima vestibilità Anche se segnano taglie uniche Ed è molto carino Ed è scontato A 15 euro Molto carino Fa questo Questo è il materiale Taglio vivo Perché sono tagliati vivi Tagliati a vivo Cioè taglio vivo Sì tagliati vivi Non si può dire Sì Un SM Tranquillamente Anche Anche sulla taglia 42 Non abbondante 40 15 euro Questo è il prezzo in sconto Ve lo voglio mostrare Perché insomma Poi vi faccio vedere Allora Vediamo se c'è qualcosa ancora Magari mettiamo qua Che così è un po' più visibile Che è così bellino Anche se è dentro nel rosso Però vabbè Fa niente Tone sur tone Vi faccio vedere Allora Vediamo un po' Cosa posso far vedere Alle ragazze Un abitino Che questo è molto carino Della Twister Taglia SM Questo è un abito Estremamente femminile Un po' in stile Baule della Veronica Perché il baule della Veronica Io Utilizza tantissimo Questa tipologia di abiti Molto bello Questo taglio a V Davanti Appunto Che lascia intravedere Il decolleté Questo va bene Un po' meno Audace del mio body E poi l'abitino è midi Meraviglioso Viene giù praticamente Fino sotto il ginocchio Al polpaccio E costa 10,90 euro Questo è bellissimo È un ASM appunto E devo dirvi Che è un abito Molto femminile Questo io me lo immagino Proprio con un bel sandalo Nero O bianco O marrone Perché c'è dentro Anche il marrone È una bella fascia Nei capelli È un bel cerchietto Anni 60 Secondo me È la fine del mondo È anche il prezzo Molto interessante È un brand Comunque da boutique È il brand Twister Nel G per uno Vi faccio vedere Questo gile vintage Rosso Meraviglioso Anche questa È una taglia Vediamo se l'ho scritta Se l'ho stata così brava No 60% lana Vabbè È una taglia Unica È carino Fa parte del G per uno Ha tutti i laccetti Qua in camoscio Camoscio O velluto Velluto Vabbè Ha tutti i laccettini Ed è un gile vintage Appunto 60% lana Molto carino Proprio da mettere Con sotto una bella camicia Magari anche bianca O grigia Insomma Ci sta molto bene E questo costa 12 euro E fa parte del 2 per uno Quindi se ha qui stato Un altro articolo Avete anche la possibilità Di prenderlo quasi gratuitamente Poi Vi faccio vedere Sto pensando cosa Questa No Anche questa Fa parte del 2 per uno Che è una gonnellina Taglia S Bordeaux L'ho già fatta vedere Diverse volte Bordeaux è grigia Molto carina Da portare a vita alta Appunto ripeto Taglia SM E costa 10 euro Quindi però Fa parte del 2 per uno A vita alta Da portare È bellissima Anche da portare Con delle paregine grigie Se ce le avete Sta molto bene E un maglioncino Sopra grigio 2 per uno Poi Andiamo avanti Di qua Direi di cambiare Bella Anzi no Vi faccio vedere Ancora due cose Col 2 per uno Anche perché Questa devo proprio Farvele vedere Allora vi faccio vedere Due gonne uguali Di Primark In due taglie diverse Ora io non so Perché queste bellissime Gonne che tra l'altro Sono tutta sorta Ho provato anch'io stessa Una di queste E beh sono benissimo Sono anche un'ottima ecopella Non riesco a capire Come mai siano ancora Qui in giacenza Però vabbè Forse perché Non ve l'ho neanche mai Fatte vedere più di tanto Bene a dire la verità La prima Sono praticamente identiche Sono solo in due taglie diverse E fanno parte del 2 per 1 La prima è una taglia 50 E viene Contata Oltre a far parte del 2 per 1 8 euro e 90 È una ecopelle Bella dura Cioè bella Insomma bella gagliarda Sembra quasi vera pelle È fatta davvero da dio È midi Ha tutta la zip È molto sexy Secondo me è molto bella Per essere una taglia 50 Veste divinamente Non è che dico È molto bella Per essere una taglia 50 Veste molto bene Anche una taglia 50 Essendo una taglia 50 Però Su una donna Diciamo Curvi A volte queste gonne qua Si rischia di pensare Che stiano male Che stiano bene Solo a quelle senza curve A quelle che sono dritte Magari una La taglia 44 Diciamo No a me non mi sta bene Perché Questa cade bene Fidatevi di me L'altra è Uguale identica Però nella taglia 46 E anche questa qua Allo stesso prezzo dell'altra Fa parte del 2 per 1 Sono meravigliose Credetemi E può essere usata Anche in primavera Con la décolleté E con delle bluse sopra Anche delle semplici T-shirt carine Fanno parte del 2 per 1 Anche loro Poi vi faccio vedere Una t-shirt Che non fa parte del 2 per 1 Questa qui Della Della click Allora Da 25 euro Qui era scontata 20 euro E ora c'è un ulteriore sconto Ragazze Costa praticamente 12 euro Sono quelle t-shirt Che fanno Con tutte le scrittine E io ne ho scelta Una proprio Delle più simpatiche Non te la darei Neanche se fosse Di un'altra Io l'ho chiamata La t-shirt ignorante Vabbè E ha un ottimo prezzo E molto simpatica Se lavorate In un luogo pubblico Avete a che fare Ci sta Poi vi faccio vedere Un abitino nuovo Taglia M Con le righe Questo qua Anche questo qua E diciamo Un abitino da boutique Cioè da boutique Arriva da una boutique Praticamente È uno stock Ed è Ed è un pronto moda Ve lo dico Sinceramente appunto È un qualità Prontomoda Allora Vabbè Era apprezzato 29 euro Ovviamente Il prezzo di baule È molto più basso Perché ovviamente Gli stock che si rilevano Poi si possono vendere A prezzi inferiori È un pochino Anni 30 Perché ha queste Frangettine sul fondo È veramente carino È fatto davvero Molto bene E costa 15 euro Ragazze 15 euro Per un abito nuovo Bellissimo Che mettete Con gli stivaletti neri Bellissimo Se ne avete anche Delle sneakers Magari glitterate Potete anche fare Usare Diciamo Con questo Ed è veramente Interessantissimo Poi 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 Vi faccio vedere Una blusa Che questa La vendevo È tornata in vendita Al baule E questa qui Praticamente È una blusa blu Con la manica corta Con i lacettini Da fare Molto carina Da mettere All'interno Di gondelline Che stiano Di jeans Che stiano A vita alta All'interno Anche di jeans Guardate come Starebbe bene Con questo jeans Con la cinturina Rossa Abbinata È una taglia unica Appunto Va bene SM È anche morbida Assolutamente Fino anche a 44 E costa ragazze 8 euro E 50 È pari Praticamente Al nuovo E sta benissimo Anche all'interno Di gonne Di 50 Tipo gonne a ruota Con una bella Sempre ripeto Faccia nei capelli Ormai sono Fissata con questa cosa Delle facce nei capelli E chi E chi E chi Ce la spioda più Altro articolo Che fa parte del 2x1 Questo Maxi Maglioncino verde Tutto traforato Che fa anche da abitino In realtà Al ginocchio Oppure da Maxi Maglione Costa ragazze 8 euro E fa parte del 2x1 È tutto traforato Verde bosco Perfetto con i miei capelli Vedete È fatto così Una taglia unica Consiglio fino alla 44 Anche questo Tranquillamente Poi vi faccio vedere Questa blusa Questa ricorda tantissimo Un po' cocca Un po' blue marine Diciamo Se scendiamo È nuova con etichetta E è una taglia unica Diciamo Va benissimo Fino alla M morbida M morbida Sì assolutamente Anche 44 Va benissimo È bellissima Fa una sorta di blusa mini abito Con questi fiori delicatissimi Ed è l'estate Fatta blusa Cioè questa è la blusa Che richiama l'estate Ovviamente si può mettere Con Costa 8,90 euro Ed è un nuovo arrivo Si può mettere tranquillamente Con Sotto una canottierina bianca Ovviamente Non Non portata così Diciamo Tutta scollacciata Poi vi faccio vedere Una camicetta Questa è tipo Oh mio dio Cioè io quando l'ho vista Ho detto Oh mio dio Ma esiste davvero Una camicia così È bellissima Ed è di Emanuel Skilly Non lo so È una camicia super vintage Una taglia L Con su tutti i personaggi Degli Unitoons Cioè dai Guardate No Cioè è troppo bella E anche questa Me la sono immaginata Ho portata lei Con un bel jeans skinny Proprio portata sopra Con un bel cinturone in vita Oppure anche portata Con magari Tipo mini abito Con sottomare uno shorts E mezza aperta Mezza chiusa Sempre con una bella cinturina in vita E il costo di questa Che è un nuovo arrivo È 11 euro ragazze Per un capo unico E particolare Per quest'estate Secondo me È anche molto Molto vivace Molto interessante Facente parte del 2x1 C'è anche questo Bellissimo pulloverino Un po' anni 60 Appunto Penso che sia in cotone Di più Verona Super vintage Taglia 3 E questo fa parte Del 2x1 Ragazze E oggi io Ve lo butto A 7,90 euro Ed è appunto Parte del 2x1 Molto bello Anche questo Con un bel pantalone bianco Poi vi faccio vedere Facente parte sempre Del 2x1 Anche questa maglia Qua taglia XL Tutta lavorata E anche questa qua Questa 8 euro E fa parte del 2x1 Con tutti degli inserti Di pizzo Ve l'avevo già fatta vedere È una taglia Da 50 Anche 50 Secondo me ci sta molto bene Parte del 2x1 Poi Cosa abbiamo qui ancora Da farvi vedere Sto pensando Se c'è ancora qualcosa Anche questo fa parte Del 2x1 Che è un cardigan Molto vintage Beige Anche questa È una taglia ML Tranquillamente Con tutte queste Lavorazioni Questi Elefantini Eccetera eccetera Molto bello Anche questo Proprio da portare Con dei pantaloni Con dei jeans Con dei pantaloni Marroni Anche eleganti Anche col sabbia Ci sarebbe bene Col bianco E anche questo Fa parte del 2x1 Ed è a 7 euro Ragazze Poi 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 Non so più Da che parte Girarmi Giuro Un altro articolo Fa parte del 2x1 Questo Piumino bianco È una SM E costa scontato Guardate che carino Che è a cortino E costa scontato Ragazze 11 euro Fa parte del 2x1 Non so qua poi A farvi vedere Troppa roba Sempre facendo parte Del 2x1 Reds Taglia L LXL Questo bellissimo cardigan Super caldo Ma anche solo da tenere In casa All'inverno Cioè è bellissimo Ha una bellissima lavorazione Quindi è quasi Praticamente direi vintage E anche questo ragazze Costa 6 euro 2x1 2x1 Felpa bianca Questa è una felpa Taglia unica Con la zip qua Molto carina Ve l'avevo già fatta vedere Super primaverile Costa 9 euro Scusate E anche questa Fa parte del 2x1 Poi Anche questo Questo qua Fa parte del 2x1 Anche se è già Un po' primaverile Però un po' Che ve l'ho fatto vedere È un maglioncino vintage In cotone Almeno credo Che sia cotone Spero che sia cotone Dovrebbe essere cotone Sì 100% cotone E costa 10 euro E fa parte del 2x1 Anche questa In taglia unica Fino a M morbida 44 Tranquillamente Sempre facente parte Del 2x1 Anche questa giacca Che è una taglia M Bellissima Quella tutta lavorata Che vi avevo già fatto vedere È un blazer Giacca È bellissimo Fa parte del 2x1 Guardate la lavorazione Non sto qua neanche Ha dentro anche gli spalini È tutto Un blazer bianco Panna È veramente particolare Io ve lo devo rifar vedere Perché guardate Tutta la trama così Anche tra l'altro Nei bottoni Vintage Vintage Bellissimo E costa 14 euro Facente parte Anche lui Del 2x1 Sempre facente parte Del 2x1 Avrete gli incubi 2x1 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 Vi faccio vedere Anche questo Golf Giacchettina Di Terra Nova Taglia S E questo qua ragazze Costa 8 euro È praticamente Un giacchino cardigan Con inserto di pelo Tenuto davvero Molto bene Poi Sempre facente parte Del 2x1 Anche questo XL Che è una sorta di Costa già 1 euro Però fa parte Del 2x1 È una specie di E costa 1 euro Perché? Perché è scucito Non è che costa 1 euro Così aspettate Ok Ha questa piccola scucitura Sotto la cella Anche se è nuovo Ve lo faccio vedere Ha questo difettino Quindi costa 1 euro Per questo motivo Una cavolata O la sarta A voi Riuscite tranquillamente A ripararlo Ed è bellissimo Bellissimo per l'estate Tipo una sorta Di casacca Quasi abito Meraviglioso Color ghiaccio Sempre facente parte Del 2x1 Ci sono questi Skinni Di la pinky Allora questi Allora questi qua Sono una taglia 38 Vita alta Meravigliosi Tutti Panna Con questo maculato Molto leggero Molto carino Molto tenue Molto E' molto elegante Nella sua particolarità E questi qua Che fanno parte del 2x1 Vengono 13 euro E costa 7,90 euro E costa 7,90 euro Bianco Fatto così Con le trecce sul fondo Molto interessante Anche lui Bellissimo Poi un altro articolo Del 2x1 Questa volta Un articolo super estivo Anche questo qua Ha un pantalone A vita alta Al modello Low weight boyfriend Un boyfriend Con la vita Con la vita Non altissima Costa 10 euro E fa parte del 2x1 Bianco La taglia E' una taglia 42 6,38 42 Non abbondante Perché a me Strizzava un po' Quindi consiglio Anche una taglia 40 Perché non mi piace Almeno personalmente A me L'effetto Di un boyfriend Che sta Diciamo Largo Non mi fa impazzire Poi Cosa vi posso far vedere Ancora Ragazze mie C'ho tantissime cose Da farvi vedere Non so neanche più Da che parte cominciare Cambiamo orella Ci spostiamo Sempre facendo parte Del 2x1 Maglioncino Tipo etnico Diciamo Bellissimo Anche questo Questa è una taglia S Costa 14 euro Guardate che meraviglia Bellissimo E fa parte del 2x1 E ve l'ho già fatti vedere Mille volte Nei video Quindi Non so qua Farvi rivedere Un'altra volta Poi Facente parte Sempre del 2x1 Questa bellissima Felpina Questa è una taglia XL E costa 10 euro Color salmone Con tutte le perle Qua Una sorta di collana Integrata Con strase e perle Guardate che meraviglia E questa qui Costa appunto 10 euro Fa parte del 2x1 Poi Sempre facente parte Del 2x1 Pantalone di lino Nuovo Con etichetta 100% lino Taglia S 12 euro Scontato Oltre a essere Facente parte del 2x1 Io oggi ve lo sconto A 8 euro Cavallo basso Baggy Bello cortino Carino Da mettere anche con le sneakers E la parte qua La banda glitterata Una cosa un po' più particolare Di soliti Poi facente parte Sempre del 2x1 Questo pantaculotte In velluto Taglia XL Di calliope E costa 9 euro E fa parte del 2x1 Bellissima punta di rosa Come il mio body Come i fiori del mio body E un bellissimo pantalone Da mettere appunto Con pullover Con camice E pullover Con gilet e camice Con blazer anche E anche degli stivaletti bassi E tipo in vellutino Rosa Rosa antico Molto molto carino E interessante Facente parte del 2x1 C'è anche questo maglioncino In puro cashmere Che costa 25 euro E è una taglia SM Color rosa pallido Con lo scollo AB Questo è muricetto Vabbè cashmere Che cosa vi devo dire E fa parte del 2x1 Che è una cosa folle Da fare Però vabbè Ormai Mi tocca metterlo così Poi vi faccio vedere Questo altro maglioncino Di Stradivarius Pari al nuovo Taglia L Costa scontato 8 euro E fa parte del 2x1 Un color lillino Ed è morbidissimo Potete portarlo Anche se siete XL Perché va benissimo E potete portarlo Anche se siete M Se lo volete Oversight Poi facendo parte del 2x1 C'è anche questo bellissimo Ecopiumino sportivo Nuovo con etichetta Questo qui ragazze È a Praticamente una taglia Media 42 Anche morbida Ed è color Salmone Con il blu Con il cappuccio Va bene anche una taglia S Se lo volete portare Fa parte del 2x1 Ed è scontato A 12 euro Altro articolo Che fa parte del 2x1 Questa camicetta Taglia L 100% cotone Un Terra Nova Vintage Ed è scontata Ragazze A 6 euro Una taglia L Fa parte del 2x1 Questa blusa Qua di Topshop Questa magliettina Più che blusa Praticamente È una taglia Piccola Dicono Probabilità Io direi che è una SM Tranquillamente Sempre rosa antico Di quelle che vanno Basic Però con la bellezza Di avere la spalla scoperta Molto carina Molto interessante Fa parte del 2x1 E costa 5,90 euro Bellissima Anche per la primavera Anche da mettere all'interno Di robe a vita alta Poi Ah Questo non mi ricordavo più Che c'era ancora Reduce Un blazer nuovo Con etichetta Taglia media Rosa Non ricordo Se vestiva giusto O non vestiva giusto Ora lo provo Così vi dico Questo poi sicuramente Mi chiedete Sì Non è una M Non è una M Proprio verifiera Diciamo Un 42 con la tetta Con la tetta piccola Fino a 42 Con la tetta piccola Va bene Questo qua ragazze Fa parte Del 2x1 Ed è scontato Non c'ha neanche il prezzo Ve lo dico io È scontato A 13 euro E fa parte Ripeto Del 2x1 Felpina Anche questa Che fa parte Del 2x1 Rosa Tipo stile Barbie Praticamente Taglia M Questa 6 euro Della OVS Molto carina Rosa Proprio rosa baby Rosa Barbie Bellissima Anche questa Con il denio Che chiama le felpe È top Poi vi faccio vedere Questo maglioncino Che è un nuovo arrivo Quindi non fa parte Del 2x1 Ed è una taglia LXL Morbidissimo Tipo azzurrino Con tutta questa Lavorazione Guardate che delicatezza Molto bello È una taglia LXL E questo qua ragazze Viene 8 euro Carino Nuovo arrivo Abbastanza primaverile Comunque Sempre facendo parte Del 2x1 Abbiamo questo poncio Praticamente L'ana più alta Capistica Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti